Una persona spaventata Giura di essere stata all'interno di questo posto e di aver visto le cose più spaventose al mondo La persona dice che il gioco racconta la sua storia reale, cioè la vera storia che ha vissuto lei Ma sarà la verità? Io l'ho giocato e in effetti sentivo delle voci Ho aperto questa porta, cos'è che c'è qua? C'è una stanza delle telecamere Ma vedete questa cosa si deve tirare? Accidenti, ma chi è quello lì? Ho paura che quella donna si presenti qua, accidenti Perfetto, adesso basta trovare i colori qua Adesso dobbiamo solamente tirare questa leva Oh, cosa sta per succedere? Oh, accidenti Guardate, oh mio dio Ok, mi sa che si stanno aprendo... si possono aprire gli ascensori, vero? Sì, perfetto Adesso ce ne possiamo andare da questo posto Accidenti, non voglio essere come quella persona che praticamente è stata chiusa qui dentro e fatta fuori praticamente Oh no, povera porca puzzarda Eh? Ma questo è Wallipulli Oh mio dio, hanno tutti paura di lui Oh, che bel posto, che è tutto colorato Ok, si sta, si è aperto, perfetto Cosa diavolo c'è qui dentro? C'è uno zaino unicorno, c'è uno zaino unicorno Oh, cos'è? Ah no, niente C'è un pupazzetto, ho trovato il pupazzetto, questo pupazzetto ci servirà Oh, perfetto Andiamo qua? Praticamente bisogna mettere qua il pupazzetto, vediamo Oh, si è aperto Sì, 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 sì Eh? No, però ho paura, che diavolo c'è qui? Aiuto, è tutto così buio Oh mio dio Eh, ma non si vede niente Accidenti, questa fabbrica è veramente enorme Oh, ma che bello E lui cos'è questo fiore paurosissimo? Cioè no, in realtà non fanno paura, sono tutti così belli Ma mi sa che mi uccideranno fra poco Corga puzzarda, mi fa paura tutto Anche perché so che non sono così belli, ecco Tipo questo qua che caspita è? Ehi, dammi il mio pupazzotto Mmm, ho paura di quella stanza Perché c'è quella bocca enorme così brutta Aiuto E poi qua io devo mettere questa cosa così almeno mi si accende In teoria questo Ah, ok, perfetto Devo fare i colori dell'arcobaleno Vedete, il rosso Ecco, e questo qua è il rosso Per favore, cerchiamo di non sbagliare Anche perché poi questo qua, se no si arrabbia Allora, mi serve l'arancione adesso L'arancione è qua Ok, dammi l'arancione Perfetto, benissimo Guardate che brutto Mio Dio questa cosa Oh no, mi sa che Mi sa che ho sbagliato Dovevo mettere giallo Oh mio Dio No, 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 no Scusami, scusami, scusami No, per favore No, 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 non fare No, non ho visto Non ho visto Che caspita era? No No, 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 no Si è arrabbiato Si è arrabbiato Raga, aiuto Aiuto No, 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 no Va bene, metto il giallo Va bene, metto il giallo Metto il giallo, metto il giallo Scusami Adesso mi serve il verde Mi serve il verde Mi serve il verde Questo qua Non dobbiamo più sbagliare assolutamente Se sbagliamo ancora una volta Moriamo tantissimo Porca puzzata Che paura No, 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 no Mi serve L'azzurro L'azzurro, l'azzurro, l'azzurro L'azzurro, è semplice È semplicissimo E questo qua Ok, questo qua Dammi veloce Poi Tecnicamente il blu, giusto E poi il viola Il viola, ok Il viola dovrebbe essere esattamente Ok, qua Proprio qua Che bello Mettiamo il viola Perfetto Ciao Mi sta seguendo con lo sguardo Guardatelo Non ho paura Ho paurissima Scappiamo Ok, ok Però adesso possiamo andarcene avanti Perfetto No, no Sono morto? Pronto? Chi? Dove sono? Perché c'è una luce? Vedo una luce Tanta, tante stelline Vedo Forse perché sono caduto da così in alto Adesso vedo tutte le stelline E gli uccellini intorno alla mia testa Che volano Non cadete Oh no, chi è quello là? Si vedono degli occhi Nel buio Chi caspita è? Prendi la torcia prima che ti ammazzi Ok Perfetto Dov'è il tizio? Non c'è nessuno Oh, invece sì Che c'è Guardatelo Ecco cos'erano gli occhi Oh mio dio Oh no, no, no Si sta muovendo Si sta muovendo Porca puzzarda Aiutatevi per favore Non voglio morirmi Ma non c'è nessuno Anche se non saprei dove andare Porca puzzarda Io per non sbagliare Me ne vado dalla direzione opposta Dove questo qua è scomparso Ah Pericolo c'è scritto Eh, ci credo Questi qua ti vogliono far fuori Porca puzzarda Non possiamo andare da questa parte Allora Andiamo da quest'altra parte Velocemente Scappa, 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 scappa Prima che arrivi qualcuno Porca puzzarda Ho sentito qualcosa Chiaramente se arriva qualcuno Adesso mi urlo Raga Però non voglio urlare Perché poi mi perdo la gola Oh mio dio Oh mio dio Che brutto Mi sa che mi sta dicendo di seguirlo Ci sono pure le frecce Non voglio però urlare Oh mio dio Oh mio dio No, 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 no Ok Allora siamo qua Perfetto Allora tecnicamente Ah Ci sono delle frecce qua così E tecnicamente Ho un'idea su cosa devo fare Prendi questa scatola Mettila qua sopra Prendi la scatola Ok Scusate ma sono molto in panico Ho talmente tanta paura Che potrei urlare ancora di più Ok Oh sì 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 L'ho preso L'ho preso L'ho preso Ok Qua praticamente c'è Ok Questo Adesso come faccio ad uscire Con la sedia Posso uscire Sì Perfetto Allora quello che devo fare Mi sa è proprio mettere questa cosa Che ho appena trovato qua E poi azionare velocemente Entrambe le cose Ok Oh perfetto E posso ricaricare il mio orsacchiotto qua Ok Ricaricati caro l'orsacchiotto Quante Joyville Il posto del tuo intrattenimento C'è scritto Però qua c'è un artiglio Che è molto pericoloso Queste porte non si possono aprire Forse questa sì Aha Ehi però aspetta un attimo Questo è molto strano Come posto Non vorrei che qua succedesse qualcosa di brutto Che non vogliamo che succeda Ci picchia Porta Puzzarda Anche qua si può aprire Ma queste scatole si possono togliere Eh no purtroppo Cosa è successo No riaccendi la torcia È meglio così Fidatevi di me Dobbiamo andare da questa parte Aha Oh perfetto Possiamo andare da questa parte Perché ha laggato Mi sa che sta caricando qualcosa raga Ok ci stiamo dirigendo verso un posto Che non so nemmeno dove in realtà Perché mi fa paurissimo Aiuto Oh Cos'è questo posto Pieno di cose brutte C'è scritto Cattivo 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 Diabolico Proprio Cattivo Guardate quanti cattivo C'è scritto dappertutto Perché dice che è cattivo C'è da scoprirlo allora Mettiamo qua Anche se Ah no Non posso Mi serve un coniglietto qua Allora mi sa che dobbiamo andare da quest'altra parte Per forza Oh Cos'era questo rumore No eh Non mi fa paura Perché qua io potrei urlare In venti lingue diverse Provares Imparo le lingue qua Che diavolo di posto è Ecco se chiudo la Se spengo la torcia qua Non va bene Non si vede niente Cos'è quella roba E questo è il bruco Che schifo è il bruco E questo chi caspita è È un coniglietto Forse è proprio questo Che dobbiamo prendere adesso Mi sa che è l'unico posto Dove posso entrare In questo coso Con gli occhioni Ciao Come stai occhionino Che carino Che guardate C'ha pure le cose rosa Vabbè Cerchiamo di entrare qui dentro Speriamo che non mi mangi Però Oh mio dio Non si vede niente Aiuto Ah Aiuto No 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 Per favore No 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 Ah dove son finito Dove diavolo son finito qui Ah che cospito di posto è questo Ma perché non accendete la luce scusatemi Ho paura di andarci veramente Ah Porca vacca No 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 L'infarto 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 Aiuto Ho paura Ho paura Ho paura Ho paura Ho paura Porca pancia Porca puzzardo No entra 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 Oh mio dio Stava per catturarmi Stava Non riuscivo ad entrare Stava per catturarmi Avete visto tutti Oh mio dio Che brutto Che sei No 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 Per favore No basta Dove è andato a finire È scomparso? È scomparso Oh mio dio Non voglio più Che succeda niente Di tutto questo Accidenti Si è acceso Tutto quanto Pure adesso E certo Adesso che mi sono preso L'infarto Si può accendere E adesso dove Diavolo devo andare Ah da questa parte Perfetto Andiamo Adesso almeno Questo posto Si è acceso Dalle luci Si può vedere Tutto quanto E poi il tizio Spero che se ne sia andato Se no Mi piglio un infarto Più forte del mondo Cioè mi auguro di no Ovviamente Scherzo Oh si Ok dammi qua Perfetto E qui Che caspita Di cosa ci sono Ci sono delle piattaforme Molto strane Qua ci sono dei blocchi Perfetto Mi sa che bisogna Prendere questi blocchi E portarli Proprio Verso queste piattaforme Così Ok Ok perfetto Questo scensore Mi sta portando in alto Adesso vediamo un attimo Come si risolvono Questi enigmi Anche perché Non mi sembrano Proprio semplici Oh raga Sto put Riesco a volare Oh raga Ho trovato un bug Ho trovato un bug Di questo gioco Guardate Praticamente Così posso volare In giro Perché Oddio Che bello Aspetta Vi faccio vedere Anche senza luce Se no non si vede Ah Mi sa che ho barato Raga Mi sa che ho barato Tantissimo Guardate Ho barato Tantissimo Sono il più intelligente Di tutti Mi sento Evil Dunis In questo momento Perfetto Perfetto Raga Assurdo Bellissimo Raga Ci si può volare Con sto Con sta modalità Raga Ci abbiamo trovato La vita Praticamente Guardate Oh attenzione Dove sono finito Così Su Perfetto Continuo Sì Perfetto Ah ah E il verde Proprio qua Vedete Ah perfetto E qua c'è il rosso Ah ok Bisogna rompersi Le scatole Invece così È molto più semplice Vedete Praticamente Fai così Brum Eh no Non ce l'ho fatta Stavolta Però Così Ok No Diamine No 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 Ah porca puzzarda Ok Aiuto Ah io mi sono bloccato Ok perfetto Meno male Questo è un po' il lato negativo Di usare i bug Ti Ti blocchi Però perfetto Così siamo riusciti Molto meglio A sfruttare tutto quanto E abbiamo aperto Senza romperci le scatole Che noia Che sarebbe Altrimenti Vediamo un attimo Cosa dobbiamo fare adesso Invece E manca solamente Il rosso Perfetto E si è aperto qui Ok Perfetto Ce l'abbiamo fatta Perfetto E si è aperta la porta qui Avete visto E se l'abbiamo fatto anche con un bug Siamo stati molto bravi Intelligenti E diverso dagli altri youtuber Vabbè almeno Da qualche punto vedere Warning Perfetto Si deve andare da questa parte Ehi Come ti permetti di bloccarmi dietro Brutto schifoso No Perché ci sono delle diavolo di palline Qua che cadono Oh mio dio Quanto sono colorate Però adesso le voglio prendere Tutte e giocarci insieme Che bello Ciao palline colorate Siete mie amiche Possiamo andare avanti Beh l'unico posto Dove si può andare È proprio qua Però dai Non volevo andare qua Ho paura Accipicchia Mi vuole far venire un infarto Verde Oh No 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 Porca puzzarda Porca puzzarda Qua bisogna stare molto attenti Corriamo Veloci Non dobbiamo mai fermarci Accidenti Abbiamo un mostro cattivo Che ci sta Mi seguendo No 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 Per favore Ah Ci picchia Ci picchia Puzzarda Ho paura Andiamo Oh Andiamo da questa parte Mi sembra proprio un'ottima idea Da qua si può andare Allora Però cerchiamo di non sbagliarci Cerchiamo di prendere la strada più giusta Che non so quale sia raga Infatti Eh ho paura che qua Oh no Non me di di nuovo Però eh Che cacchio Però eh 3 7 4 4 Perfetto vai Ok Dai ti prego Ti prego Vai metti qua dentro Che No 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 per favore no 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 per favore non farmi fuori ti prego non mi uccidere Guardate che brutto che era Veniva qui Oh Perfetto Siamo Siamo al protetto ora abbiamo una torcia Perfetto Oh guardate dove stiamo salendo Oh mio dio si vede anche sotto no solo sopra Oh wow E che succede, perché ci siamo fermati? E che succede? No, 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 ti prego No, 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 no È caduto Oh no Stiamo cadendo No, no, no Fisica di base, mi sa che siamo morti per forza La storia continuerà Oh mio Dio, speriamo che continui Ma quindi quella donna che fine ha fatto?